Che traguardo straordinario per la saga di mezz'estate a Cutigliano! Raggiungere il cinquantesimo anniversario è davvero un'impresa notevole, un vero e proprio nozze d'oro per questa amata tradizione locale. Questo dimostra non solo la dedizione degli organizzatori, ma anche l'importanza di questa festa che ha per la comunità nel corto dei decenni. La cinquantesima edizione della saga di mezz'estate, le nozze d'oro. Siamo arrivati, siamo molto orgogliosi di essere gli organizzatori di questa manifestazione. Saranno cinque giornate ricche di eventi, musica, gastronomia. Vi invitiamo a venire al piazzale di Cutigliano dalle 10 la mattina fino a mezzanotte con tanta musica e veramente tanti eventi. È una manifestazione ormai consolidata da tantissimi anni, da 50 anni. Si rinnova tutti gli anni con qualche novità, quindi teniamo ancora duro per portarla avanti il più possibile. È la festa più importante di Abitone Cutigliano, quindi su questo cerchiamo di dare tutto il massimo sforzo. Noi qui rappresentiamo la neonata associazione Fabio Danti e quindi da questo sostituiamo l'ex scuderia Ferrari nell'attività di ristorazione della sagra. Abbiamo anche tantissime novità fra i nostri banchi, abbiamo i nostri affezionati che vengono tutti gli anni a allestire il loro banco, ma abbiamo anche tantissime novità, stendisti che vengono da tutta Italia, dal nord fino al sud, che ci hanno raggiunto in questi giorni per allestire. Abbiamo tantissimi gruppi, il gruppo della cover band degli 883 e di Giovanotti, che animeranno le serate di venerdì e di sabato sera, con a seguire due DJ che animeranno la notte della sagra di mezz'estate. Grazie. Grazie. Grazie.